Ben ritrovati con noi, vediamo insieme cosa ci offre il pomeriggio televisivo. Tra poco prosegue La Vita in diretta con Marco Liorni e Cristina Parodi. Alle 18.50 Carlo Conti sarà l'arbitro di gara del quiz preserale L'eredità. Alle 20 l'informazione del Tg1 e subito dopo alle 20.30 Affari tuoi con Flavio Insinna, impegnato nel fortunato gioco dei pacchi. Alle 21.15 potrete assistere alla terza puntata della grande fiction di Rai Uno in prima visione, Un'altra vita, con Vanessa Incontrada, Daniele Liotti e la partecipazione straordinaria di Loretta Goggi. La presenza a Ponza di Elvira, la suocera di Emma, scombussola non poco il precario equilibrio che Emma stessa e le sue figlie erano riuscite ad ottenere dopo settimane molto difficili. Vi segnalo inoltre in onda alle 23.20 Porta a Porta di Bruno Vespa. Allora vi ricordo questa sera alle 21.15 da non mancare l'appuntamento con la fiction Un'altra vita. Buon divertimento e a più tardi. Buon divertimento e a più tardi. Buon divertimento e a più tardi.